Buongiorno a tutti, con questa iniziativa intendiamo presentarci, presentare il nostro Ateneo, i nostri percorsi di studio, le nostre attività, i nostri servizi e le opportunità che in generale l'Ateneo di Ferrara offre rivolto agli studenti, ovviamente delle scuole superiori, gli studenti che si iscrivono via via nei nostri percorsi. L'Università di Ferrara è un Ateneo antico generalista, quindi offre ormai una gamma di opportunità in termini di percorso formativo veramente molto ampia, sia nei percorsi triennali che nei percorsi magistrali o a ciclo unico. Molte sono anche le iniziative che abbiamo attivato negli ultimi anni e che hanno un grande riscontro anche a livello nazionale in termini di formazione secondaria, sia sui percorsi di dottorato che sui master. Nell'ambito dei corsi di studio intendiamo offrire servizi sempre più rivolti ad un completamento del proprio percorso formativo, nell'ambito non solo dei tirocini pratico-valutativi, quindi rivolti già al mercato del lavoro, ai contatti, alle esperienze che lo studente può avere con il mondo imprenditoriale o le istituzioni pubbliche, nell'ambito ancora del percorso di studio, così come invece sono tante le proposte che possiamo offrire in termini di esperienze di studio all'estero, sempre per arricchire il proprio percorso formativo. Sono tante anche le iniziative di collaborazione che stiamo portando avanti in questi anni e che intendiamo ampliare nel prossimo futuro con istituzioni pubbliche o private a livello locale, ma anche a livello regionale o internazionale, proprio per cercare di offrire un pacchetto sempre più ampio di percorsi e di esperienze che possano essere fruite dai nostri giovani. Ferraro è una città tranquilla, è una città molto attenta agli aspetti culturali, alla valorizzazione del patrimonio architettonico e delle iniziative culturali che vengono via via proposte dai diversi soggetti che animano questo territorio, è una città a misura d'uomo, molto accogliente, così come intendiamo essere accoglienti come Ateneo nei confronti di chi si iscrive ai nostri percorsi. Abbiamo attivato dei servizi di ascolto e ho attivato un delegato proprio specificatamente rivolto ai rapporti con gli studenti in maniera tale da poter tenere un filo diretto con la nostra popolazione studentesca durante tutto il percorso di studi. Ci auguriamo quindi che possiate essere attirati, incuriositi da quelle che sono le nostre attività, a venire a conoscere alcuni dei nostri docenti, venire a conoscere alcuni dei nostri laboratori, delle nostre attrezzature, delle nostre infrastrutture e quindi che possiamo essere al vostro servizio. Grazie.